Stiamo dando i numeri. Nel 2000, 1.282 imprese nel settore tessile-abbigliamento. A fine 2007, 964. A fine 2012, 807 imprese nel settore tessile-abbigliamento. E' tutto per una crisi che qualcuno diceva che non c'era. Nel 2012, più 80% di cassa integrazione rispetto al 2011. Nel settore tessile-abbigliamento. In Piemonte, 50.000 posti di lavoro persi in 5 anni. E' il body count della dignità. Ripartiamo da adesso, con il lavoro e la salute. Con l'innovazione e l'impresa. Con i giovani e le idee. Con più giustizia e meno burocrazia. Con meno promesse elettorali e più politica e servizio. Io riparto da qui. Il sogno Il sogno Grazie per la visione!